Urliman H358.4 e H468.4 Club Nell'ambito della politica di rinnovamento delle sue gamme, Urliman propone una nuova serie di modelli nelle classi di potenza da 60 e 70 CV. Sono infatti entrati in produzione i nuovi H358.4 Club e H468.4 Club, quest'ultimo disponibile anche in versione con posto guida reversibile. Equipaggiati con motore serie 1000 a 3 cilindri per i 60 CV e a 4 cilindri per i 70 CV, questi trattori, ideali per la loro economicità di esercizio per piccole e grandi aziende, sono caratterizzati da importanti novità di estremo interesse per tutti gli agricoltori. I motori serie 1000 presentano soluzioni tecnologiche d'avanguardia come i condotti d'alimentazione a chiocciola, i pistoni con camera ad omega, il sistema di iniezione a pompe singole che ottimizzano il rendimento dell'iniezione e l'avanzato sistema di raffreddamento che per il motore da 60 CV è ad aria e d'olio, mentre per quello da 70 CV è ad acqua e olio. Il cambio a lubrificazione forzata è ora previsto anche in versione con Drive Power, l'originale sistema Urliman che permette sotto carico e senza l'uso del pedale frizione di introdurre una mezza marcia tra due contigue. Grazie quindi alle 5 marce, alle 4 gamme e all'inversore sincronizzato abbiamo ben 40 marce avanti e 40 retromarce che coprono perfettamente tutte le velocità comprese tra gli 0,33 km all'ora e i 40 km all'ora di velocità massima. Novità anche nell'impianto frenante che è stato dotato di una valvola a due posizioni in grado di escludere i freni anteriori al fine di ridurre il danneggiamento del terreno. L'economicità di impiego di questi trattori è uno dei loro punti di forza. Non solo i bassi consumi motore, ma anche una nuova ed importante applicazione tecnologica esalta questo aspetto. È la PTO economica. Una soluzione studiata per quelle lavorazioni agricole con attrezzature a basso assorbimento di potenza come le operatrici per la fienagione o la distribuzione di concimi. Vediamo infatti in queste immagini come l'agricoltore impegnato in un lavoro di concimazione prima di entrare in campo porti la leva selettrice delle PTO sulla posizione economica, ottenendo così a soli 1740 giri motore con il 70 cavalli i 540 giri di rotazione del codulo di forza. Grazie alla selezione PTO economica possiamo assicurare i 540 mille giri al minuto di rotazione della presa di forza a regimi motore decisamente più bassi di quelli normalmente usati, con notevoli riduzioni di costi di lavoro. Sui nuovi modelli CLUB è stato inoltre introdotto il gruppo sollevatore e PTO anteriore da mille giri al minuto. Con questo gruppo il costo orario di lavoro dei trattori risulta ulteriormente diminuito grazie ai benefici delle lavorazioni in combinata e dalla riduzione della compattazione del terreno, causa di diminuite rese ad ettaro. L'innesto della PTO anteriore è elettroidraulico ed avviene tramite un comando posto in console di guida. Il gruppo sollevatore posteriore, load sensing, con controllo di posizione, sforzo, misto posizione, sforzo e flottante, mantiene inalterate le sue principali caratteristiche. Nuovo risulta il comando da terra del sollevatore, ora più comodo ed ergonomico, mentre i distributori idraulici sono disponibili anche a sei vie per l'azionamento delle attrezzature più sofisticate. Il posto di guida rivisto nei suoi punti più importanti è stato reso più sicuro dal nuovo arco a quattro montanti. Dal posto di guida la visibilità è ottima in ogni direzione grazie al filtro e marmitta con scarico laterale. Inoltre i parafanghi con il nuovo profilo arrotondato e più avvolgente lasciano un ampio campo visivo anche lateralmente. Infine la console di guida è stata arricchita con il check panel, mentre al volante è stata fornita la regolazione in altezza. Sul cofano compare la scritta Zinc, a ricordare l'importante trattamento anticorrosivo a cui è stato sottoposto, al fine di proteggere il vostro trattore ed il vostro investimento a lungo nel tempo. I modelli della gamma Club sono disponibili anche nella versione con guida reversibile. L'originale soluzione Hurleyman che riduce ulteriormente i costi di esercizio del trattore ed aumenta il comfort di lavoro. Ancora una volta Hurleyman vi offre soluzioni importanti per una moderna agricoltura. Hurleyman Nobiltà terriera